Elisabeth Buffett Reviewer Il QTSS Buongiorno, io vi parlerò delle fake news nei social networks. Le fake news sono sempre esistite, perché si tratta delle notizie false, delle notizie invente. Però c'è stato un grande cambiamento, C'è stato un grande cambiamento perché noi siamo passati da quelli che erano i vecchi mezzi di comunicazione di massa a un grande mezzo di comunicazione per le masse. I mezzi di comunicazione di massa sono la radio, le televisioni, i giornali. Nei mezzi di comunicazione di massa c'è un mediatore culturale. Il mediatore culturale è quella persona che ha il compito di stabilire questa cosa si può pubblicare, questa cosa non si può pubblicare. È la persona che decide, eventualmente, anche una censura nei confronti delle notizie. Ecco, su internet, e in particolar modo nei social network, non c'è un mediatore culturale, non sono sistemi di broadcast. Questo significa che chiunque può pubblicare una notizia, può pubblicare un'idea e la può diffondere. E questo è un grandissimo strumento di democrazia diretta nelle nostre mani. È un potentissimo strumento di democrazia, che però ha un lato negativo, un aspetto negativo, che ovviamente è rappresentato dalle fake news, che oggi stanno influendo massivamente su quella che è la politica di tanti paesi e su quella che è la vita, ovviamente, anche politica in Italia. Allora, perché sono qui a parlarvi di questo? Perché il 30 novembre del 2014, avevo finito di fare le lezioni, ero a casa mia, a Teramo, ho gettato un'occhiata distratta ai social network. E gettando questa occhiata distratta ai social network a Facebook, ho visto che i miei studenti, i miei colleghi, gli avvocati, insomma gli utenti di Facebook, stavano massivamente copiando, incollando sulla propria bacheca questo messaggio. Questo messaggio che cos'è? È un disclaimer a tutela della privacy. Quella che vedete è una delle tante versioni di questo messaggio, che dice, attenzione, a partire da domani tutti i tuoi dati saranno di proprietà di Facebook, perché lo stabilisce il Trattato di Roma e se vuoi proteggerti da questo, se vuoi tutelare la tua privacy, quello che devi fare non è condividere, mi raccomando, ma copiare e incollare, copiare e incollare questo messaggio sulla tua bacheca e in quel modo potrai difenderti dalle violazioni alla tua privacy. Allora io insegno informatica giuridica, oltre che filosofia del diritto, mi rendo conto immediatamente che questa cosa non può essere vera, faccio un rapido controllo sui motori di ricerca per vedere le leggi, perché venivano uscitate delle leggi, capisco che è una sciocchezza e penso adesso voglio scrivere una smentita per i miei studenti e quindi su quella che è la mia pagina pubblica di Facebook mi seguivano allora 840 studenti e la usavano essenzialmente per vedere l'orario delle lezioni, per capire quando avrei dovuto fare una conferenza oppure l'orario degli esami, su quella pagina io scrivo la mia smentita, la mia smentita è questo avviso agli studenti di informatica giuridica in cui scrivo chiunque tra di voi avesse condiviso una sorta di disclaimer a tutela della privacy, è pregato di uscire da Facebook onde vi dare danni a cose o persone, lasciare la facoltà di giurisprudenza e iscriversi a scienze degli snack al formaggio. Andiamo male ragazzi? Molto, molto male. Scrivo questa cosa pensando, nella mia testa c'era l'immagine dei miei studenti che sorridevano in quel momento, cioè la mia idea era li voglio far sorridere, scherzando su questa bufala che sta circolando in questo momento. E poi inizio a vedere le visualizzazioni, il counter delle visualizzazioni sulla mia pagina Facebook che inizia a crescere e quindi mille, duemila, tremila, diecimila, centomila visualizzazioni, penso c'è qualcosa che non va, qui si è rotto qualcosa, non è possibile che io faccio centomila visualizzazioni in tre ore, in quattro ore, qualcosa non funziona probabilmente. In una settimana questo messaggio ottiene un milione e cinquecentomila visualizzazioni, è diventato controvirale, cioè è come se avesse guarito in qualche maniera una piccola parte della rete da un virus informazionale che stava girando che era il messaggio a tutela della privacy. La mia smentita finisce su tutti i giornali, mia madre la trova su Donna Moderna che rappresenta un po' l'apice della mia carriera come blogger. E questa, che è la mia pagina pubblica, passa da ottocento follower a cinquemila follower in una settimana. A quel punto io inizio a dedicarmi alla pagina pubblica, al blog e inizio a fare, tra le altre cose, attività di debunking, che è una cosa di cui vi voglio parlare oggi. Il debunking è quell'attività che svolge chi va a smentire le bufale, le notizie inventate, gli hoax, le fake news che girano in rete. E io lo faccio soprattutto in ambito giuridico, perché la mia preparazione mi consente, quando leggo qualcosa di sbagliato, qualcosa di equivoco, sui poteri del Presidente della Repubblica, su come si forma un nuovo governo, sulle leggi a tutela degli animali, mi consente di intervenire sulla legittima difesa e spiegare ai miei follower che le cose vanno viste in un certo modo, perché ho le competenze per farlo. E provo a farlo, ovviamente, in una forma che per loro deve essere anche accattivante, perché quello che voglio fare è diventare controvirale rispetto ai messaggi sbagliati che inquinano la rete, che è un pozzo dal quale tutti andiamo a bere per ottenere informazioni. Allora, come sono fatte queste fake news, queste fake news, queste notizie inventate che rovinano la qualità dell'informazione e quindi in qualche maniera incidono sulla politica, vi dicevo prima, del Paese? Esistono diversi tipi di fake, ci sono delle fake soltanto di testo, dove c'è scritto qualcosa, come quella sulla privacy che abbiamo visto prima, ci sono delle fake che hanno a corredo una foto, questo è molto importante, le fake di foto funzionano benissimo, basta mettere una foto e sottoscrivere una didascalia, una didascalia che dice, vedete questa persona nella foto? È la nipote del ministro Lazzaroni, lei percepisce 300.000 euro al mese per non fare nulla, condividi se sei indignato. Queste fake hanno un grandissimo successo, perché per le persone l'immagine è la prova inconfutabile che quello che c'è scritto è vero, si fermano all'immagine, me l'hai provato, me l'hai fatto vedere. E poi c'è un terzo tipo di fake che lavorano su un fenomeno che si chiama clickbaiting. Il clickbaiting è quel fenomeno per cui qualcuno condivide su un social network il link a una notizia che si trova su un sito. E la notizia può essere di qualsiasi tipo, le persone vanno a cliccare sul link per avere la notizia e la persona che ha diffuso quella notizia guadagna molto in termini di pubblicità. Qual è quindi la forma, qual è la sostanza delle fake news? Dal punto di vista della forma, le fake news fanno anche qualcosa di positivo che non viene mai abbastanza ricordato, del quale non si parla mai abbastanza. Questa cosa positiva è che le fake news diventano virali, come vi dicevo prima, diventando virali squarciano il filter bubble, diventando virali distruggono la camera dell'eco. Che cos'è questa camera dell'eco? È uno dei motivi per i quali vengono criticati social network. Cioè si dice che nei social network noi tendiamo a parlare solo con le persone che la pensano come noi e quindi entriamo in una sorta di camera dell'eco in cui io dico qualcosa e gli altri che la pensano tutti come me ripetono la stessa cosa che ho detto. Ecco, se è vero che esiste questo problema del filter bubble della camera dell'eco, è altrettanto vero che le fake hanno strutturalmente, architettonicamente, un aspetto positivo, perché attraversano come un tracciante il cielo della rete e uniscono milioni di persone che altrimenti non sarebbero mai entrate in contatto e magari iniziano a discutere su quell'argomento. Se c'è un piccolo, un piccolissimo aspetto positivo delle fake è questa capacità di diventare virali e di squarciare quindi questi limiti che ci sono sui social network. Dal punto di vista della sostanza le fake news possono riguardare qualsiasi cosa. La cosa importante è che devono creare allarme sociale, ci colpiscono emotivamente, ci devono spaventare, perché in questo modo noi saremo portati a condividere quella fake e quindi a distribuire questo virus all'interno della rete, all'interno del sistema informazionale. Il cuore del discorso che volevo farvi io oggi è questo, cioè il problema essenzialmente è perché ci crediamo, per quale motivo noi caschiamo in questa trappola che è la trappola delle fake news. Proviamo a riflettere su questo, perché riflettendo su questo capiremo come possiamo difenderci. Il primo motivo per il quale noi ci crediamo è che le fake news non sono semplicemente delle balle, non si tratta solo di inventare delle cose, non è una grande fantasia, c'è qualcosa di più. Le fake news nascono modificando leggermente la realtà, è una leggera distorsione della realtà quella che accade. Per esempio qualche giorno fa si è diffusa la notizia in rete che una nota donna di spettacolo italiana era morta, era venuta a mancare. Ovviamente non è vero, per fortuna non è vero, ma sappiamo tutti che quella persona è gravemente malata. Oppure avete visto la fake sulla privacy? In quel periodo, nel 2014, Facebook stava aggiornando la sua privacy policy e stava avvisando tutti quanti gli utenti che avrebbe cambiato la privacy policy. E quindi in quel momento inizia a circolare la fake news sulla privacy, le persone ci credono, c'è una distorsione della realtà, qualcosa che deve essere verosimile e che ci viene presentato come vero. Il secondo motivo per il quale noi tendiamo a credere alle fake news è che viviamo immersi in un flusso continuo di informazioni. Analizziamo questa frase perché è una frase con la quale possiamo essere facilmente d'accordo. Cerchiamo di capire di quali elementi si compone. Questo flusso è una sorta di stream of cautiousness alla Joyce. Allora, prima di tutto dal punto di vista temporale, noi siamo sempre raggiunti da informazioni in qualsiasi momento, mentre siamo al semaforo, mentre aspettiamo di entrare dal medico, in chiesa, le persone guardano continuamente il cellulare. Queste informazioni che ci raggiungono continuamente provengono da fonti diverse, quindi arriva un messaggio Whatsapp, arriva un SMS, arriva un messaggio su Facebook, qualcuno ha commentato un tuo post, ha commentato qualcosa che hai scritto. Provengono da fonti eterogenee, hanno quindi anche un significato diverso e quindi ovviamente un amico ti invita ad andare a giocare a calcetto, qualcun altro vuole parlare di politica e hanno anche una forma diversa perché sono multimediali, perché ovviamente ci raggiungono dei messaggi audio su Whatsapp, dei messaggi scritti SMS, dei video su YouTube, su Facebook. Mettiamo insieme tutte queste cose. Tantissime informazioni ci raggiungono in ogni momento, provengono da fonti diverse, hanno un contenuto diverso, hanno una forma diversa. Questo abbassa drammaticamente il livello della nostra attenzione e quindi più facilmente cadiamo vittime delle fake news. In particolare, il terzo motivo per il quale crediamo alle fake news è rappresentato da un nostro vizio, da un problema, se volete, del modo in cui noi leggiamo, relativo al modo in cui noi leggiamo. I bambini leggono lettera per lettera e poi ricompongono le parole, leggono parola per parola e poi ricompongono le frasi. Noi adulti abbiamo uno stile di lettura totalmente diverso, ci sono molti esperimenti di psicologia cognitiva che dimostrano questo in maniera inequivocabile. Gli adulti identificano la prima e l'ultima lettera di una parola e poi ricompongono le lettere nel proprio cervello. Cioè non andiamo a leggere le lettere che si trovano tra la prima e l'ultima. Quando abbiamo identificato la prima e l'ultima, riusciamo a capire di quale parola si tratta. Questo è molto importante perché quando una notizia proviene da un sito che si chiama il fatto quotidiano, oppure proviene da un sito che si chiama la Repubblica, oppure proviene da un sito che si chiama il messaggiero, nessuno si rende conto che quel sito non è il fatto quotidiano, non è la Repubblica, non è il messaggero, perché nessuno legge lettera per lettera. Leggiamo la prima e l'ultima lettera e ci convinciamo che quella notizia è vera perché proviene da una fonte che secondo noi è attendibile, ma in realtà c'è un soggetto dietro che sta facendo clickbaiting e sta guadagnando sulla nostra ingenuità. Come possiamo quindi difenderci dalle fake news? Prestando attenzione, lavorando sul tempo di fronte a una notizia, a un messaggio che sembra strano, facciamo fact checking, cioè andiamo a controllare, basta inserire quella notizia su un motore di ricerca e possiamo facilmente capire se qualcuno l'ha già smentita. Ci sono dei siti in Italia che si occupano soltanto di questo, se si tratta di diritto venite a controllare da me perché me ne occupo anch'io spessissimo relativamente al mondo del diritto. Leggiamo con attenzione la url, cioè la provenienza della notizia lettera per lettera. In questo modo abbiamo la possibilità di difenderci, possiamo controllare anche le foto perché Google ti consente anche di controllare se una foto è effettivamente la foto della nipote del ministro Lazzaroni o non si tratta di un'altra foto. Ovviamente questo significa prestare attenzione, significa investire energie, significa che non possiamo navigare serenamente e condividere qualsiasi cosa. Abbiamo una responsabilità, questa è la mia chiamata alle armi, il senso del messaggio che volevo darvi oggi. Abbiamo una responsabilità nei confronti della comunità, tutti, perché i social network sono uno strumento incredibile di democrazia, di crescita culturale. La nostra possibilità di evolvere, tutti insieme, lo slogan della democrazia è pensare tutti, pensare assieme e i social network rendono questo possibile. Oggi vengono demonizzati per le fake news, reagiamo, abbiamo la possibilità di reagire, tutti quanti noi, chiunque ha una competenza in un campo, chi è medico, chi è chimico, chi è avvocato, deve intervenire perché ormai la gorà, la piazza, è virtuale. Dobbiamo intervenire, smentire le notizie false, evitare di diffonderle. Vi racconto una cosa che è accaduta in America nel 2016 a Saint Paul. La polizia ferma una macchina, nella macchina ci sono tre persone di colore, due signori, un signore e la moglie e la bambina che era seduta nel sedile posteriore. Il signore viene ucciso dalla polizia, per motivi che ancora non sappiamo ci sono ancora indagini in corso. Il poliziotto, dopo aver ucciso il signore che era sceso dalla macchina, si avvicina alla macchina con la pistola e inizia a parlare con la signora che si trova dentro la macchina. La bambina è in lacrima e sta urlando nel sedile posteriore. Il poliziotto intima la donna di scendere. Il finestrino è abbassato. Il poliziotto punta contro la donna la pistola. La donna punta contro il poliziotto cellulare e dice sei in diretta su Facebook, stai attento a quello che fai. Chi controlla le informazioni controlla il mondo. Questo è il nostro grande strumento di democrazia, i social network, abbiamo il dovere di impegnarci per tenerli puliti, per tenerli liberi dalle fake news che altrimenti potrebbero definitivamente rovinarli. Questo era ciò che vi volevo dire. Grazie per l'attenzione. Grazie.